E partita quasi finita, non ce n'è andata bene una, una che sia una, non ce n'è andata bene una, incredibile, ho avuto un sacco di occasioni per poter andare al gol, per poterla anche riprendere Però niente, una sfiga, una sfiga tremenda e finisce qui adesso questa partita, 2-0, gol di De Chetelare e poi penso il gol l'abbiano dato a Scamacca Tutti e due nel secondo tempo con, devo dire, un risultato che se fosse finita, non lo so, sul pareggio con qualsiasi risultato sarebbe stato un risultato giustissimo Per quello che abbiamo fatto, per come si è comportata l'Atalanta, per come ci siamo comportati noi, l'Atalanta ha tenuto molto bene il campo Noi, soprattutto nel primo tempo, abbiamo avuto probabilmente più occasioni da rete rispetto all'Atalanta Nonostante l'Atalanta si sia portata ovviamente vicinissima al gol anche nel primo tempo E, ripeto, se fosse finita in pareggio sarebbe stato un risultato giustissimo Così come è stato giusto anche questo di risultato Perché non bastano i diri, insomma, bisogna metterla dentro, no? Bisogna metterla dentro per segnare, per vincere le partite o ovviamente come in questo caso per andarle a pareggiare, no? Però... va bene, nel senso... ok Non ho visto la partita del... cioè non ho visto la stessa partita che abbiamo fatto contro l'Udinese Per fortuna si vedeva che eravamo più attenti, più... eravamo in campo, insomma Siamo scesi in campo in questa partita, non come contro l'Udinese Partita che non mi è piaciuta solo per l'arbitraggio, io devo dire, un po' rivedibile Un po' rivedibile Ci sono stati tanti errori di valutazione, tante scelte sbagliate Come per esempio, me ne viene in mente una Con Scamacca che strappa la maglietta a Pongracic e non viene dato il giallo Viene fiscato sì il fallo, ma non viene dato il giallo Che secondo me ci sarebbe potuto essere Nell'azione successiva, non mi ricordo chi Prende il pallone in un'azione, in un contrasto con Ramadani se non sbaglio Prende il pallone, i due cadono Viene fischiato fallo e viene dato il giallo al giocatore dell'Atalanta Secondo me inesistente, secondo me è stato un chiaro tentativo di rimediare all'errore Al giallo non dato prima a Scamacca, l'ha dato in quel momento lì Ma ha fatto un triplice errore Non dare il giallo a Scamacca, fischiare un fallo che secondo me non c'era Perché andava a prendere, ad anticipare Ramadani prendendo il pallone E poi sono franati e poi addirittura dare il giallo Diciamo arbitraggio veramente rivedibile Molto, molto, molto rivedibile Non ci sono state cose eclatantissime Però si poteva fare molto, molto meglio Noi abbiamo avuto tante occasioni Soprattutto anche con la punizione di Piccoli sul finale di gara Dal limite dell'aria Prova a spiazzare Musso Le tira sul palo del portiere, rasoterra E Musso ha fatto una gran parata, devo dire Ha fatto veramente una gran parata Perché si distende con le unghie Praticamente Prolunga la traiettoria del pallone Fino a farla sbattere sul palo Ma questa è una delle tante occasioni Che abbiamo avuto durante tutti i 90 minuti Che purtroppo non siamo riusciti ancora una volta A mettere dentro A sfruttare È una cosa che ci portiamo dietro da Tanto tempo Tanto, tantissimo tempo E io dico per fortuna Che siamo già salvi Perché se no Queste partite avrebbero potuto compromettere tanto È la seconda sconfitta per 2-0 Dopo quella contro l'Udinese nello scorso turno Seconda partita in cui non segniamo È difficile, è difficile Fatto sta che ora la prossima, l'ultima di campionato Contro il Napoli Lì al Maradona Secondo me lì si può fare anche punti Si possono fare punti Ci proviamo almeno Ci proviamo Il Napoli non sta vivendo un grandissimo periodo Non ha fatto una grandissima annata Come ci si poteva aspettare E credo che si possa tranquillamente andare a giocarcela Non dico con la vittoria assicurata Con i tre punti assicurati Però potremmo avere le possibilità Mi è piaciuto tantissimo Beriscia oggi Con la prima da titolare in campionato Veramente un gran calciatore Un gran giovane Che può crescere tanto E io spero di rivederlo Molto più spesso in campo Anche nella prossima stagione Ho mai visto che questa è finita Mi piacerebbe vederlo molto più spesso in campo Perché merita Merita Ha fatto una gran partita oggi Diciamo sostituendo Blen Anche se hanno avuto compiti completamente differenti Ovviamente sono due giocatori che Non c'entrano niente l'uno con l'altro Però mi è piaciuto vederlo in campo Anche al fianco di González Che ha fatto Diciamo da esterno E andando a completare un reparto con Ramadani Che era abbastanza equilibrato Devo dire Abbastanza equilibrato Mi è piaciuto Mi è piaciuto Ma mi sono piaciuti praticamente tutti Diciamo Soprattutto Falcone Vabbè Falcone come sempre Riesce a superarsi Peccato per Sia il gol di Di Dech e Talare Che tenta lo scavetto Falcone Allunga il braccio Riesce a toccarlo Una palla che finisce Comunque in porta E il secondo gol Sul calcio d'angolo dell'Atalanta Arriva Scamacca Credo Che anticipi Un pochino tutti E la palla poi Entra in maniera Un pochino strana Se vogliamo dire In porta E provava ad anticipare Falcone Che poi non so Forse l'ha toccata Con il braccio di richiamo Forse c'è stato un tocco Di Baschirotto Di Pongracic Non si è capito bene Dal replay sinceramente Però Credo che il gol L'abbiano dato Comunque a Comunque a Scamacca Poi c'è stata La super parata Su Pasalic Su Sull'inizio del primo tempo Veramente Un super falcone Un super falcone Non c'è Non c'è altro da dire Non c'è altro da dire Mi va benissimo Questa Questa sconfitta Arrivata Diciamo in maniera Anche dignitosa Perché abbiamo continuato A giocare Abbiamo lottato Ci abbiamo provato Io sono contento Quando vedo Questo Lecce qui E non il Lecce Che ho visto Contro Udinese Che era ancora Con i postumi Della Della festa Della festa salvezza Praticamente Di sabato scorso E mi è piaciuto Questo Lecce Mi è piaciuto E sono più contento Perdere così Quando lotti Piuttosto che perdere Senza dignità Senza giocare Senza Senza niente Detto questo Ragazzi Ci vediamo Ovviamente Dopo Più tardi In centro Per festeggiare Con tutti i nostri I nostri Beniamini Con i nostri amati Calciatori E ci vediamo In centro Ciao ragazzi Sempre Forza Lecce Sempre Ciao 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 a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti